Moda mina, il catalogo è questo, delle belle chiamo il padron mio, un catalogo bellissimo e affatio. Osservate, lecce te col me, osservate, lecce te col me, in Italia di centri e quaranta. In Almaglia duecenti titura, cento in Francia e in Turchia non ancora mai in Spagna, mai in Spagna non già mille e tre, mille e tre, mille e tre. Ma per queste contattie, fammi rire i cittadini, ma con queste valoreste, marchi a dire principi e servivano le donne di campo, ogni forma, ogni età. In Italia duecento e quaranta, in Almaglia duecento e tritura. Cento in Francia e in Turchia non ancora mai in Spagna, mai in Spagna non già mille e tre, mille e tre. Ma per queste contattie, fammi rire i cittadini, ma con queste valoreste, marchi a dire principi e servivano le donne di campo, ogni forma, ogni età. Ma per queste contattie, fammi rire i cittadini, ma con queste valoreste, marchi a dire principi e servivano le donne di campo, ogni età. Ma per queste contattie, fammi rire i cittadini, ma con queste valoreste, marchi a dire principi e servivano le donne di campo, ogni età. La valoreste, fammi rire i cittadini, ma con queste valoreste, marchi a dire principi e servivano le donne di campo, ogni età. La valoreste, fammi rire i cittadini, ma con queste valoreste, marchi a dire principi e servivano le donne di campo, ogni età. La valoreste, fammi rire i cittadini, ma con queste valoreste, marchi a dire principi e servivano le donne di campo, ogni età. La valoreste, fammi rire i cittadini, ma con queste valoreste, marchi a dire principi e servivano le donne di campo, ogni età. La valoreste, fammi rire i cittadini, ma con queste valoreste, marchi a dire principi e servivano le donne di campo, ogni età. La valoreste, fammi rire i cittadini, ma con queste valoreste, marchi a dire principi e servivano le donne di campo, ogni età. La valoreste, fammi rire i cittadini, ma con queste valoreste, marchi a dire principi e servivano le donne di campo, ogni età. La valoreste, fammi rire i cittadini, ma con queste valoreste, marchi a dire principi e servivano le donne di campo, ogni età. La valoreste, fammi rire i cittadini, ma con queste valoreste, marchi a dire principi e servivano le donne di campo, ogni età.